Caramagna Piemonte, comune di circa 3.000 abitanti nel cuore della pianura cuneese. Conserva forti tradizioni agricole unite ai recenti insediamenti artigianali e industriali. Il municipio Belpalazzo Seicentesco si trova ridosso dei portici medievali e di fronte alla parrocchia, già potente abbazia, fondata nel 1026, che fa di Caramagna uno dei comuni più antichi. Resiste la torre medievale del Palazzo della Credenza, al cui fianco ora svetta la moderna torre del Cinemateatro, importante infrastruttura di cui è dotato il comune, assieme alle scuole primarie e secondarie, alla biblioteca, al centro anziani, agli impianti sportivi, al bocciodromo e a un palazzetto di oltre 2.000 metri quadrati, alla casa di riposo nell'antico ospedale San Giuseppe. Tra gli eventi più importanti, segnaliamo la festa patronale della Beata Caterina, la quarta domenica di settembre. Alternative ad aprile, Fantarocca e la festa d'estate a giugno, la Sagra della Frittella a fine ottobre e il presepe vivente nell'oratorio. Consultate il sito del comune per qualsiasi informazione. www.comune.caramagnapiemonte.cn.it